Allora, in questi 20 minuti vorrei esplorare con voi una domanda. Per piacere, un po' di silenzio, grazie. Cioè, gli studi sulla morfogenesi, e adesso vedremo di che cosa si tratta, e vi anticipo che vedono coinvolti anche i mitocondri. Ci possono aiutare nella pratica clinica, ad esempio per gestire un paziente oncologico o per gestire un paziente fragile? Questa è un po' la domanda che cerchiamo in questi 20 minuti di esplorare. Intanto partiamo nel definire che cos'è la morfogenesi. Morfogenesi è quel processo che genera le forme biologiche, cioè quel processo attraverso il quale da una sfera simmetrica dai 10 ai 100 micron di dimensione, cioè l'uovo fecondato, passiamo a un essere vivente completamente formato. In questo processo, molto spesso, ci dimentichiamo di riflettere sul concetto di organizzazione multilivello. Cioè, se ci pensate nell'uomo, per esempio, in nove mesi si organizzano reti di reazioni biochimiche, di espressioni igieniche, quindi su scale microscopiche inferiori alle dimensioni delle cellule, e poi anche si organizzano le cellule in tessuti, tessuti in organi, in organi in apparati, e a queste organizzazioni corrispondono delle funzioni biologiche. Quindi, quando io studio la morfogenesi, sto studiando i principi che danno forma alla vita. E se facciamo un gioco di parole, che però la saggezza popolare porta dietro delle verità, molto spesso uno dice ti vedo in forma o non ti vedo in forma. Questo perché, in fondo, i processi che portano alla generazione della forma biologica sono anche quelli che, quando si srompono per qualche motivo, la fanno perdere. L'invecchiamento è l'esempio di come, nel tempo, noi andiamo a perdere la forma biologica fino a un disordine totale. E allora la domanda è, se studiamo questi processi, possiamo capire qualcosa di nuovo, da poi traslare in clinica? Una risposta arriva dalla riflessione di Noble. Dennis Noble è famoso perché negli anni Ottanta è stato il primo a sviluppare un modello matematico e computerizzato del funzionamento del ritmo cardiaco. E Noble spiega come non avrebbe mai potuto sviluppare questo modello basandosi esclusivamente sui dati provenienti da livello genetico e da livello cellulare. Quindi il modello che spiega come funziona il cuore, come il cuore si sviluppa, deve prendere in considerazione informazioni, dati, su tutte le scale, cui voi avete chiamato in maniera molto interessante dalla cellula all'anima. Ecco, guardate fino a dove si può espandere la scala della vita. E questo aspetto ha una ripercursione in ambito farmacologico, perché se la biologia si sviluppa su più livelli, è chiaro che è un approccio riduzionistico della scienza moderna, che porta a studiare il più microscopico ingranaggio della vita, e sperare di trovare quella molecola che aggiusta quel microscopio ingranaggio, beh, in certi casi può funzionare, ma sicuramente non è completo, perché non tiene in considerazione come la vita effettivamente si genera. Ora, come si fa a studiare la morfogenesi? Ci vogliono dei modelli, specialmente i modelli animali. Vi presento questo vermiciatolo che si chiama planaria. La planaria ha una caratteristica, ha un altissimo potenziale rigenerativo. Se voi la tagliate, ad esempio, in tre monconi, da tutti i tre monconi si può rigenerare l'intero animale. Una cosa affascinante, questo ve lo cito come esempio per capire quanti livelli vanno considerati nello studiare la morfogenesi, è che se noi analizziamo il troncone centrale, vediamo che ci sono delle differenze di potenziale tra dentro e fuori la membrana. Differenze di potenziale che nascono dagli scambi ionici. L'idrogeno, ne abbiamo sentito parlare, il cloro, piuttosto che il potassio. E quindi queste due differenze di potenziale creano una polarità, polo positivo e polo negativo. E come insegna il professor Spaggiari, quando ci sono delle polarità, poi nascono dei campi elettromagnetici. Bene, studiando la planaria, si è capito che il campo elettromagnetico è istruttivo sul determinare la forma della testa e della coda della planaria. Quindi se noi andiamo a prendere, adesso vi spiego facilmente, la parte centrale della planaria, quindi il corpo, che ha un polo positivo e un polo negativo, a livello di differenza di potenziale, con tecniche farmacologiche, andiamo a inibire alcuni passaggi dei canali ionici e creiamo due poli positivi, noi assistiamo alla nascita di una planaria con due teste. Quindi pensate quanto è importante un aspetto spesso trascurato elettromagnetico per guidare, potremmo dire, a livello epigenetico, l'espressione dei geni, perché quella porzione di planaria ha gli stessi geni e le stesse cellule. Addirittura, questo è affascinante, già negli anni 60, McCollum scopri che non solo si rigenera la testa. Se io insegno alla planaria il percorso per andare a trovare il cibo, lo impara, poi le taglio la testa, aspetto che la testa si rigenera, la planaria con la testa rigenerata mantiene ancora il ricordo della strada per andare a trovare il cibo. Quindi guardate quanto ancora dobbiamo scoprire studiando la morfogenesi, quanto sono affascinanti questi studi. Un altro modello animale, con cui si può studiare la morfogenesi, è chiaramente l'embriogenesi, il processo attraverso il quale dalla fecondazione nasce la vita. E il pesce zebrafish è tra i più utilizzati perché intanto dalla fecondazione e dalla nascita del pesce ci vogliono solo 72 ore, quindi è molto veloce. E poi le uova sono trasparenti, quindi è facile da guardare cosa avviene all'interno. Bene, studiando l'embriogenesi, già negli anni 50 ci si era accorto di un fenomeno particolare. Qui siamo alla Toulain University, il professor Robert McKinnell, ancora vivo, docente del Primo Nobel, poi Gurdon, lui scoprì che se noi prendiamo delle cellule di tumore di rene di rana, estraiamo il nucleo, e quel nucleo mutato lo impiantiamo in un uovo fecondato, nascono sempre girini sani. Quindi evidentemente questi processi complessi di morfogenesi ed embriogenesi riescono a eliminare, a silenziare, le mutazioni che hanno portato al cancro. Dieci anni dopo, il National Cancer Institute di Philadelphia, con un esperimento a guida di Carl Ilmenze e Beatrice Mintz, ha fatto un esperimento simile, ma ancora più ricco di informazioni. Loro hanno preso cellule tumorali da topi dal pelo nero e le hanno impiantate in 200 esemplari di madri gravide dal pelo bianco. Anche in questo caso la prole è nata completamente sana, ma addirittura si è potuto verificare l'ibridazione tra le informazioni genetiche provenienti dal padre, quindi quelle cellule tumorali, e le informazioni genetiche della madre. Ed infatti il pelo dei topi, ad esempio, era un po' bianco ed un po' nero. Quindi nuovamente, vedete come in questi processi complessi di morfogenesi c'è qualche cosa, ancora da capire, che sembra quasi inibire il comportamento maligno delle cellule tumorali e plasmarle per reintegrarle in un tessuto sano. Ed è su questi argomenti che anche noi, ecco, questo ve lo faccio vedere per dirvi, informazioni sperimentali, abbiamo più di cent'anni di storie e di evidenze scientifiche, poco divulgate, ma presenti. Se poi vi interessa vi posso girare la letteratura. Tra chi ha più di tutti sistematizzato queste ricerche è stato Barry Pierce, che tra gli anni 60 e gli anni 80 ha fatto una quantità enorme di esperimenti, tra cui quella di prelevare per intero le sostanze contenute nel microambiente embronale e somministrarle a diverse tipologie di linee cellulari, andando così a scoprire che in tutti i casi si rallentava la curva di proliferazione cellulare. Questi esperimenti sono poi stati confermati anche in Italia dal professor Piemario Biava, che probabilmente molti di voi conoscete, che ha replicato questi dati confermandoli. E anche noi, con il laboratorio di biologia sistemica della Sapienza di Roma, stiamo lavorando su questi temi, sia col modello dello zebrafish che col modello della trota. Abbiamo studiato la composizione di questi estratti nelle diverse fasi dello sviluppo embronale, proprio perché nelle diverse fasi cambiano le forme della vita che si generano, cambiano gli organi che vengono creati. E abbiamo cercato di sistematizzare un po' i meccanismi d'azione che stanno alla base. Ad esempio abbiamo visto e confermato l'attivazione della poptosi, azioni su blocco del ciclo cellulare, ma ora mi concentrerei su un ultimo dato che abbiamo recentemente pubblicato e che studia una molecola particolare, una proteina, si chiama TCTP. TCTP sta per Translationally Contro Tumor Protein e potremmo definirla una sorta di piede schiacciato sull'acceleratore dei tumori, perché quando ne è presente in grandi quantità si attiva una iperproliferazione cellulare, si promuove un comportamento metastatico e si inibisce la poptosi. Infatti, colui che la studiò per molto tempo e che tra l'altro coniò il termine tumor reversion, e per tumor reversion si intende la trasformazione del fenotipo tumorale da maligno a benigno, ecco Adam Tellerman disse se si trovasse un modo per ridurre la TCTP si potrebbe favorire questa trasformazione che in natura avviene nell'embrione, come avete visto. Allora abbiamo guardato cosa succede a una cultura cellulare di cellule tumorali, di tumore del seno altrimenti aggressivo, quando vengono esposte a queste sostanze che abbiamo prelevato. E in effetti, come vedete, diverse tipologie di estratti, ma tutti riducono in maniera notevole la concentrazione di TCTP rispetto al controllo. E coerentemente con questi dati abbiamo poi visto una rinormalizzazione del fenotipo cellulare. Cosa vuol dire questa immagine? Nel controllo, queste lucine accese indicano l'espressione di actine vinculina, che sono due componenti del citoscheletro, coloro che promuovono l'avanzamento del fronte cellulare per migrare verso altri tessuti ed invaderli. E questo è un comportamento metastatico. Quindi questi actine vinculina possiamo vederli come dei piedini. Quando noi esponiamo le cellule all'estratto, l'espressione si riduce enormemente, la cellula perde la capacità di migrare e di invadere altri tessuti. E inoltre abbiamo anche visto un dimezzamento della proliferazione cellulare, della velocità di proliferazione. A questo punto abbiamo, tra l'altro, proprio pochi mesi fa, su Nature, la società scuoleana di biologia molecolare, ha citato proprio questi lavori per cui contiamo a breve magari di collaborare. Bene, noi abbiamo tipizzato il contenuto di questo estratto, lo abbiamo brevettato e abbiamo migliorato una formula che già era sul commercio, di un integratore spray che si chiama Syncro Level, che a questo punto è arricchito di queste ricerche, ma soprattutto abbiamo attivato gli studi clinici, perché altrimenti tutta questa teoria non è traslabile in clinica. Ce ne sono cinque, vi li faccio vedere velocemente. Il primo, fatto dal professor Titoli Vraghi insieme a Pier Mario Biava, ha visto coinvolti 179 pazienti con tumore al fegato in stadio avanzato. A questi pazienti non era più possibile fare altre terapie e quindi è stato possibile per cure compassionevoli dare questo estratto. La linea bianca indica che a tre anni l'aspettativa di vita attesa era del 20% dei pazienti vivi, quella ottenuta è stata del 60%, con addirittura delle regressioni in alcuni casi parziali, in altri totali della massa tumorale e qui vedete anche le immagini che lo documentano. Pochi anni dopo, il professor Torzilli dell'Humanitas di Rozzano ha confermato questi dati su 38 pazienti e grazie a queste due pubblicazioni siamo riusciti a far partire uno studio pilota all'Umberto I di Roma su 24 pazienti con tumore al colon ma questa volta associando questo estratto alla chemioterapia. Quindi ad un gruppo abbiamo dato Regorafenib e all'altro gruppo Regorafenib abbiamo associato questo spray arricchito di quelle sostanze estratte dalle uova di pesce che vi ho mostrato. È stato interessante il risultato perché se nel gruppo che prendeva solo Regorafenib il 34% dei pazienti era ancora vivo dopo un anno nel gruppo che ha preso l'associazione il 76% dei pazienti era ancora vivo quindi è un dato incoraggiante sebbene si trattasse di uno studio pilota. Questo studio pilota però è valso la presentazione al comitato etico di Rumanitas della domanda di un nuovo studio clinico questa volta in doppio cieco con placebo quindi abbiamo applicato gli stessi criteri con cui si valuta un farmaco. nuovamente pazienti con epatocarcinoma e colangio carcinoma tre centri medici che hanno partecipato e qui è interessante perché molto spesso il paziente può essere operato ma viene evitata l'operazione perché si teme che dopo l'operazione il quadro clinico generale del paziente si deteriori quindi il paziente non sopravvive al trattamento. I risultati ottenuti li vedete qua questa è una sintesi per ciascuna di queste linee noi in realtà ne abbiamo 20 di parametri misurati intendiamo diversi parametri del quadro clinico generale da aspetti fisici metabolico energetici ma anche psicologici ed emotivi e come vedete in sei mesi con l'utilizzo dell'integratore tutti i parametri tendenzialmente sono migliorati mentre il gruppo placebo come ce lo si aspetta ha avuto una tendenza al peggioramento quindi tornando un po' all'origine questi fattori della morfogenesi hanno un'azione sul tumore in sinergia con le cure oncologiche come avete visto prima è anche un'azione in qualche modo rigenerativa come vedete qui tanto che lo stesso Sole 24 ore proprio poche settimane fa ha dato notizia di questi risultati proprio perché c'è interesse non solo nel agire sulla patologia ma anche nel sostenere e rafforzare il paziente nel suo recupero bene siamo quasi alla fine non possiamo a questo punto non parlare anche di mitocondrio perché nei processi di morfogenesi è fondamentale anche il ruolo del mitocondrio ad esempio nell'embriogenesi mitocondri si distribuiscono in maniera asimmetrica all'interno del feto che cresce dell'embrione e questa asimmetria serve per generare anche delle differenze di potenziale dei campi elettromagnetici che istruiscono ad esempio sugli assi perché non so se ci avete mai pensato ma come si fa da una sfera simmetrica a capire che la pancia sta davanti la schiena dietro che il cuore va a sinistra o no da dove nascono le informazioni topologiche per l'organizzazione cellulare anche e molto dai campi elettromagnetici e dalle concentrazioni di alcune sostanze e i mitocondri hanno un ruolo fondamentale in questo così come per quanto riguarda l'aspetto oncologico l'ossigeno lo abbiamo ascoltato da professor Miceli da professor che mi ha preceduto prima Iorio e quindi fondamentalmente sappiamo che anche i tumori quando sono in anossia producono un altro piede che schiaccia sull'acceleratore della proliferazione della metastatizzazione che è HIF1 alfa e se noi diamo ossigeno lo si dimostra questo piede in fondo si solleva e si rallenta la proliferazione tumorale allora parlando con Giorgio ci siamo detti ma se uniamo le ricerche che abbiamo fatto fino ad oggi con un qualcosa che favorisce la produzione e la modulazione dell'ossigeno cosa succede ai pazienti lo abbiamo testato per un anno sono stati attivati diversi monitoraggi clinici i risultati sono stati molto incoraggiati al punto che adesso è nato un protocollo che unisce i peptidi di uova di pesce con il deutrosulfazime io mi fermo qui vi dico che avrò anch'io una piccola partecipazione all'interessante scuola di alta formazione dove approfondiremo questi meccanismi della morfogenesi e vi ringrazio a nome di tutto il team universitario grazie 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 grazie